Buonasera, ben ritrovati in un certo appuntamento con la voce dell'istituzione, ospite in studio per un rendiconto l'ex presidente della Unione Montana Centro Cadore, Luca De Carlo, che saluto e che ringrazio naturalmente per la disponibilità. Grazie a voi. Sono passati 5 anni per un ente che non è che goda poi di buona vita generalmente, perché pochi soldi, pochi dipendenti e sempre più difficoltà di manovra. È così anche in questi anni? Sì, soprattutto da noi, noi abbiamo tre dipendenti, altri tre durante l'estate, una grandissima visione che vede le comunità montane prima, le unioni montane dopo, come il male assoluto della politica quando in realtà rappresentavano enti sovraterritoriali, che per me, il mio è ovviamente una visione un po' da innamorato, perché io veramente voglio bene all'Unione Montana e la ritengo strategica, la mia ha una visione così, però dovrebbe essere una visione comune, cioè quello è veramente un ente che può fornire determinati servizi, ma lo vediamo, insomma, ambiente sociale, rifiuti, a livello sovracomunale senza dover per forza fondere i comuni, che forse oggi non è la risposta più giusta in un momento di spopolamento come questo. Togliere i servizi da vicino al cittadino non è una risposta, secondo me, compatibile con la nostra necessità di difendere i comuni e i presidi. Le unioni montane o le comunità montane erano nate per la difesa del territorio e per difendere il territorio bisogna fare in modo di difendere anche i cittadini che vi vogliono abitare e combattere lo spopolamento, potrebbe avere questa funzione? Questa dovrebbe essere la sua funzione, la funzione è di fare progetti comuni di area vasta, comunque in otto comuni, pensate che noi andiamo da Auronzo e per un periodo siamo arrivati fino a Valle, poi Valle ha scelto di stare dall'altra parte, quindi da Auronzo o per Arolo, questi sono progetti per dare uniformità al territorio. Noi abbiamo cercato di farla sia con i progetti sociali, che magari hanno meno evidenza, ma anche con i progetti turistici, quindi questo è il senso e riuscire a dare, a prendere poi la parte più attrattiva come Auronzo e fare in modo che si brilli anche noi, che siamo vicini, di luce riflessa, non si copi semplicemente quello che fanno quelli bravi, ma appunto ad Auronzo o a Pieve di Cadore o a Calazzo o ovunque ci sia una buona idea e riuscire a portarla poi a livello sovracomunale. Questo sarebbe lo spirito. Chiaramente, ripeto, è bastato un libro una volta contro le comunità montane, invece che scindere quelle che lavoravano bene, che avevano senso di esistere, da quelle inutili che arrivavano fino al mare, la solita vulgata ignorante che arriva a non approfondire mai i temi, ma a leggere solo i titoli, le ha portate ad essere il centro assoluto del male. Così non è, almeno io non l'ho mai letta così e appunto me ne sono assolutamente innamorato. Senta, voi avete una squadra ambiente, ma se avete tre dipendenti cosa fanno? Le fatture dopo vanno a tagliare l'erba? No, le fatture non le facciamo se non per quei progetti che abbiamo fatto, quel progetto che abbiamo fatto per cui con un mezzo che abbiamo acquistato, che è un trincia bellissimo, 52 mila euro di investimento, che assieme a altri mezzi che abbiamo investito consente a questa squadra, seppur limitata a tre persone, di poter agire sul territorio ed essere veramente presenti, i propositivi e la squadra funziona molto bene. Quest'anno diciamo che abbiamo avuto dei problemi perché abbiamo dovuto, non avevamo più chi ce la gestiva, come era prima che era un consigliere Martagon del Comune di Lozzo che aveva fatto un grandissimo lavoro in questi anni, quest'anno lui è venuto meno non essendo più stato eletto a Lozzo, quindi abbiamo dovuto gestire un po' internamente e abbiamo pagato un po' questa assenza. Però insomma questi sono ragazzi che ormai rodati, che vengono assunti durante il periodo estivo e che hanno la manutenzione dei sentieri, nelle aree comunali e quant'altro, oltre a quelle private a pagamento, fanno un ottimo lavoro, che si aggiunge poi a quello finanziato con le risorse dei canoni idrici che la provincia gira alle unioni montane, che consentono di fare un bando a delle cooperative e che consente alla cooperativa sociale Cadore, in questo caso, di avere a disposizione 100 erotti mila euro che possono impiegare con un monte ore che poi verrà diviso per ogni singolo comune. Per cui ogni singolo comune ha a disposizione 600 circa ore di dipendenti che sul proprio territorio vengono indirizzati laddove c'è bisogno. Questo sia un grandissimo aiuto. Se noi oggi non avessimo questi due tipi di interventi, i comuni difficilmente potrebbero presentare un ambiente pulito. Diciamo che 600 ore corrispondono più o meno a due mesi di attività di una persona. Ma dipende da quanti due dipendenti usi, ovviamente. 600 ore, da una giornata di otto ore, se tu hai cinque dipendenti, insomma. Anche perché si muove una squadra per essere ovviamente incisivi. Visto che hai accennato ai rifiuti, la nostra è una provincia che subito ha percepito l'importanza di regolarsi e le percentuali che abbiamo in provincia sono invidiabili per la stragrande maggioranza dell'Italia. Voi è arrivato un pochino in ritardo prima, poi avete recuperato abbondantemente. Noi facevamo schifo prima. Lo dico io quando sono arrivato in comune. Una delle prime cose che ho visto è una delibera regionale che diceva che Lozzo, Enego e Calazzo di Cadore erano i tre peggiori comuni della regione Veneto, con una percentuale intorno al 31%. Allora all'inizio ero svaluto, mi aveva dato la delega ai rifiuti appunto, abbiamo fatto tutta una serie di operazioni di concerto con Ecomont che è partecipata, tra l'altro al 13% dall'Unione Montana. Abbiamo portato oggi la differenziata intorno al 75%. La legge dice che bisogna arrivare almeno sopra il 65%. Direi che per uno che per quattro giorni alla settimana, tre o quattro giorni vive a Roma e si rende conto di quale sia la differenza tra lo schifo che percepiamo e che si vive in quella città purtroppo e invece quello che succede nella nostra Unione Montana, credo che se anche possiamo lavorare ancora molto di più per chi lascia e conferisce le cose fuori, possiamo monitorare molto. Di più la nostra situazione è assolutamente rose e fiori rispetto A, a prima come l'abbiamo ereditata e B, soprattutto a certe aree del paese che meriterebbero veramente di poter invece vivere in un posto più sano e più gradevole e basterebbe copiare da quelli bravi. Io dico, non è che noi abbiamo fatto tutto da soli, noi abbiamo guardato le realtà che erano più bravi e abbiamo fatto tanta fatica all'inizio, abbiamo cercato di adattarci a quelle. Poi ogni tanto bisogna ricordare ai nostri cittadini quali sono un po' le regole perché qualcuno magari tende a… Ma avete fatto una previsione basata sul decremento demografico perché chiaramente questo servizio deve essere pagato dai cittadini, meno sono i cittadini, più devono pagare i cittadini. È evidente che è così, però calcoliamo che una parte della tariffa che è divisa sempre in due, raccolta e smaltimento, è legata sì al numero di persone che vivono in un appartamento ma anche alla grandezza comunque dell'appartamento, per cui lo spopolamento inciderà sì, inciderà che quelli che non vivono più pagheranno quell'appartamento come seconda casa, quindi con la previsione che in quell'appartamento ci abitino almeno due persone. Quindi a livello della tariffa non cambierà moltissimo con questo sistema. Poi io sono uno di quelli fautori per i quali uno dovrebbe pagare in base a quello che smaltisce, che smaltisce, però attenzione perché questo tema è un tema fondamentale. Se noi partiamo da questo principio è evidente che i residenti, che sono quelli che smaltiscono molto di più, oggi andrebbero a pagare molto di più di quella tariffa, che non è fatta solo di smaltimento ma è fatta anche di raccolta. Comunque il camion gira a raccogliere. È evidente che premierebbe, nel caso ci fosse un servizio capillarissimo e ancora grosse percentuali da smaltire, che i residenti paghino molto di più di quelli che non lo sono. Quindi bisogna fare un conto anche per non penalizzare veramente chi ci risiede, perché chi ha una seconda casa potenzialmente potrebbe affittarla e quindi anche solo con 15 giorni di affitto di una seconda casa in montagna potrebbe pagarsi tranquillamente la tassa sulle immondizie. Ma queste sono comunque le prenotazioni che abbiamo fatto in anni di lavoro e che ci portano a trovare questo equilibrio, che è un equilibrio tra residenti e quindi tra persone e metri quadri. A volte la gente non capisce, soprattutto quelli che non la usano poco la casa, cioè le seconde case, spesso si dicono ma io devo pagare se non consumo mai, perché tu potenzialmente siccome non si conta quanto smaltisci, potresti stare in casa 365 giorni e pagare uguale. Quindi affitta quella casa, dando a noi la possibilità di avere molte più persone sul territorio, affitta quella casa, pagati con quel piccolo affitto quello che paghi di rifiuti, basterebbe talmente poco. Allora, il concetto della differenziare rifiuti sta anche nello inferiore spreco che si ha di in materia che poi può essere reimmessa nell'acicolo produttivo, l'economia circolare come avviene detta, è una delle accezioni dell'economia circolare e naturalmente si può evitare di sprecare anche a livello alimentare e lo si può fare fin da piccini. Voi avete lanciato questa idea carina. Pappe a casa allora con l'ex sottosegretario di due governi fa, quindi del governo Gentiloni che era la Padovana De Gani che ci aveva sostenuto in questa operazione, per cui abbiamo distribuito a quasi tutti gli asili un contenitore perché quello che i ragazzini, i bambini non mangiavano a mezzogiorno lo potessero mangiare a casa, a volte capita. Poi a questo abbiamo aggiunto un'operazione che abbiamo fatto buoni oggi e anche domani, che è un'operazione che abbiamo fatto in tutti i ristoranti perché abbiamo fornito loro sacchetti, vetrofanie per invitare la gente, negli Stati Uniti si chiama doggy bag, io trovo che sia scorretto chiamare la borsa del cane, non ha senso, se io mangio una pizza, ordino una pizza e non riesco a mangiarla tutta perché devo far finta che la devo dare al cane, me la porto a casa e me la mangio domani, le pizzerie lo facevano già, quante pizze sono da sport o si fanno dare. Diciamo che c'era un po' una mentalità che magari si vergognava a chiedere il cibo per poi mangiarlo a casa, allora si diceva me lo dia per il cane, in realtà poi quello è cibo buono, tra l'altro hai pagato che costerebbe lo smaltimento a chi te l'ha fatto, a chi te l'ha venduto, portatelo a casa e lo mangi la sera, quella è vera economia circolare, senza doverla mettere con un'enuncezione di principio, magari in un decreto, ma quello che i nostri vecchi hanno sempre chiamato buonsenso. Sì, al di là della buona intenzione, ha avuto poi i risultati, i ragazzini l'hanno portato veramente? No, 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 ha avuto dei risultati, i ragazzini l'hanno portato a casa, hanno imparato soprattutto un concetto che lo spreco alimentare è un problema, è vero che all'asilo tendi a mangiare anche quello che a casa non mangi, perché io mi ricordo a casa Mario Le Verdure non le mangiavo, all'asilo non le mangiavo perché avevo più suggestione delle maestre, mentre a casa facevo i capricci, però è altrettanto vero che se noi cominciamo a far capire ai ragazzini che sono molto, hanno una mente molto predisposta ad imparare le cose nuove, che sprecare cibo è da stupidi, anche perché i dati ce lo dicono chiaro, se abbiamo una parte del mondo dove la gente muore di fame, abbiamo una parte del mondo che il cibo lo butta via, c'è un problema. Sì, anche perché obiettivamente alcune situazioni richiedono la massima attenzione su tutti i settori, perché la povertà avanza o comunque in momenti di difficoltà, tant'è che voi avete avuto una sorpresa per quanto riguarda il bonus bollette, che sono dei soldi che date per aiutare le persone che sono in difficoltà. Abbiamo fatto un bando, grazie al lavoro capillare che hanno fatto già i nostri servizi sociali di ogni comune, tant'è che io perché mi sono schierato un po' contro il reddito di cittadinanza, perché era un reddito assolutamente accentratore che non faceva grandi differenze e non teneva conto di quelle che erano le differenze e gli screening che avevamo già fatto noi sui territori. Quindi noi sul territorio sapevamo benissimo chi faceva il furbetto, chi non lo faceva. C'era bisogno di ripartire tutto da capo, di levare ai comuni questo controllo e di lasciarlo ai centri per l'impiego. Noi invece attraverso i servizi sociali e con la regia dell'Unione Montana abbiamo aperto un bando dove chiunque avesse determinate caratteristiche sulla base del reddito e soprattutto sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare potesse chiedere un contributo per il pagamento delle bollette. Siamo partiti dalle famiglie numerose che ne beccavano 400 euro di contributo, alle famiglie a monoreddito che avevano un contributo di 150 euro. Un preziosissimo aiuto, tant'è che le domande sono state 93 a cui abbiamo risposto a tutti positivamente con uno stanziamento di oltre 15 mila euro a bilancio dell'Unione Montana. Credo che sia un esempio concreto di supporto al territorio e soprattutto di supporto alle persone in oggettivo momento di difficoltà. Ma voi potevate fare questo perché ci sono degli indirizzi statutari delle Unioni Montane che dicono dovete spendere i soldi per questo, potevate farlo anche per il sociale o avete dovuto adattare una normativa? No, io non ho dato niente, ho preso le risorse, sono andato a contrastare fenomeni di povertà che credo che sia non solo doveroso mettere negli statuti di qualsiasi ente ma sia anche un atto di buonsenso, se poi non si poteva fare mi assumerò tutte le responsabilità, cosa vuole me ne freghi. Deve stare attento perché il me ne frego è pericoloso. Godo ancora dell'immunità parlamentare, vediamo se funziona anche fuori o non funziona ma le assicuro che in questo caso un me ne frego male non sta. Che naturalmente scherziamo. Ovvio che scherziamo. Ovvio che scherziamo, sapere comunque che non teniamo a bada queste cose. A proposito di aiuti, naturalmente hanno bisogno le famiglie in primis ma hanno bisogno anche le associazioni che lavorano sul territorio e che danno la possibilità ai giovani di avviarsi a nuove attività, soprattutto sportive. Ma voi qua fate una cosa, mi dica i numeri perché sono questi importanti, considerevoli come Unione Montana. Noi qui come Unione Montana abbiamo inteso sostenere veramente, ma in maniera assolutamente pratica e concreta, tutte quelle associazioni che facevano fare sport ai nostri ragazzi, consci dell'importanza della socialità e del profilo altamente sociale che lo sport riveste. Quindi non finirò mai di ringraziare tutti quei volontari che a volte si prendono anche una parola se il pulmino arriva un minuto in ritardo dai genitori e quant'altro, ma che mettono a disposizione il loro tempo per far fare sport ai nostri giovani, come quelli che si occupano anche degli anziani ovviamente, ma in questo caso questo finanziamento era rivolto veramente a quelle associazioni. Noi siamo arrivati a dare qualche anno addirittura 1000 Euro per ogni associazione di volontariato che aveva questo scopo, questa situazione sportiva. Questo per noi è un grandissimo orgoglio perché ci fa capire e fa capire anche alle associazioni quanto importante è per chi amministra il loro ruolo. Perché guardate che formare cittadini di domani non è importante solo in campo sportivo ovviamente. Io credo che i ragazzi che fanno sport poi siano anche più preparati a donare qualcosa agli altri, soprattutto negli sport, quelli di squadra. Cadore ha sempre avuto una grande tradizione turistica, è andata un pochino in crisi negli ultimi anni per svariati motivi, però rimane sempre molto attrattivo come territorio. E voi anche per farlo capire, se non ho inteso male, agli stessi locali che molto spesso non conoscono il territorio, avete lanciato questa iniziativa anche quest'anno Paese turistico per un giorno. Sì, è la seconda volta che lo facciamo grazie un po' all'entusiasmo del Presidente del Consorzio Gillo Trevisan che ci ha coinvolto in questa partita, un investimento anche qui di 16 mila Euro con il quale identifichiamo il Paese turistico per un giorno, per cui ogni giorno i turisti presenti su questo territorio, ma potrebbero essere anche i locali, possono visitare con una guida un Paese dell'Unione Montana. È evidente che questo serve a dare la percezione di una certa unitarietà intanto e soprattutto per non far annoiare quei turisti che magari vengono e che non sono così smart anche con i telefonini, perché lì abbiamo fatto un'app che si chiama Tourist Office, nel quale ogni comune inserisce tutti i propri eventi, tutti i propri percorsi, ma che con l'ausilio di una guida fisica riescono a vedere quei luoghi che magari sfuggono un po' dalle pubblicazioni locali o che magari sono difficilmente raggiungibili. Diciamo che quando ho fatto quell'esperienza a spasso con il Sindaco sono rimasto veramente stupito da quanto fosse la fame e la voglia di conoscenza anche attraverso piccoli aneddoti del nostro territorio che credo paghi ed infatti per quello abbiamo continuato a sostenere questa iniziativa che spero possa trovare sbocco anche nei prossimi anni. Interessante anche perché proprio ultimamente ho fatto delle scoperte anche io, cose sotto le soffitte o nelle soffitte, accumuli di magari oggetti del passato che vengono offerti con parsimonia, mentre potrebbero essere di pubblico utilizzo, insomma c'è tante cose interessanti. C'è una rete museale, io dico sempre quando piove noi possiamo andare dal Museo del Cidolo a Perarolo, alla Latteria, al Museo archeologico di Pieve, cioè ci sono le cose, è evidente che se uno arriva, prenota un appartamento e poi viene lasciato solo in un appartamento a Perarolo o a Calalzo, difficilmente riesce a godere appieno di questa vacanza. Va beh, allora facciamo gli auguri naturalmente al nuovo Presidente che è Pierluigi Svaluto Ferro e che è subentrato a Luca De Carlo. Grazie Luca De Carlo per la disponibilità. Auguri a Gigio per questa nuova avventura. Confidenzialmente Gigio. Grazie a voi e anche a Gigio appunto e arrivederci domani sera.